102. Guerra e amore in casa Fischel Gerla aspettò in vano la visita di Ulrich. In verità egli aveva dimenticato la promessa o se ne ricordava nei momenti in cui aveva altro da fare. «Lascia stare», diceva la signora Clementine quando il direttore Fischel brontolava. «Prima ci considerava degni della sua compagnia, ma ora probabilmente ha messo suboria. Se vai a cercarlo, fai peggio. Sei così maldestro!» Gerda aveva nostalgia dell'amico più vecchio. Desiderava che venisse, pur sapendo che avrebbe desiderato che se ne andasse se fosse venuto. Nonostante i suoi 23 anni, non aveva esperienze, tranne un certo signor Glanz, che spalleggiato da suo padre le faceva una corteguardinga e gli amici cristiano-germanici, che qualche volta le parevano più studentelli che uomini. «Perché non viene?» Ella si arrovellava pensando a Ulrich. I suoi amici erano convinti che l'azione parallela significava il principio dell'annientamento spirituale del popolo tedesco ed ella si vergognava che Ulrich ne prendesse parte. Le sarebbe piaciuto sentire cosa lui ne pensasse e sperava che adducesse motivi tali da discolparlo. Sua madre diceva al marito «Ti sei lasciato sfuggire all'occasione di aderire a quel movimento!» Sarebbe stato un bene per Gerda e avrebbe cambiato il corso delle sue idee. Tanta gente frequenta Casatuzzi. Era venuta a sapere che Leo aveva trascurato di rispondere all'invito di sua signoria. Gli toccò passare gran brutti giorni. I giovanotti che Gerda chiamava gli spiriti amici si erano stabiliti in casa sua come gli aspiranti di Penelope e lì tenevano consiglio sull'atteggiamento che doveva prendere un giovane tedesco nei confronti dell'azione parallela. In certe circostanze, un finanziere deve dimostrare i sentimenti di un mecenate. Protestava la signora Clementin quando il marito dichiarava con vehemenza di non aver preso in casa come precettore per denaro sonante Hans Sepp la guida spirituale di Gerda perché ne nascesse un simile guaio. Così era infatti. Hans Sepp, lo studente che non aveva la più lontana probabilità di farsi una posizione, era entrato in casa come precettore e sfruttando i contrasti che vi regnavano la faceva da tiranno. Adesso, coi suoi amici che erano diventati gli amici di Gerda, deliberava in casa Fischel sui modi di salvare la nobiltà tedesca che nel salotto di Diotima di cui si diceva che non faceva differenza fra gente della sua razza e della razza estranea cadeva nella rete dello spirito ebraico. E seppure in presenza di Ray Fischel questo veniva fatto di solito con una certa riguardosa obiettività, ne nascevano ancora sempre parole e discussioni che bastavano a dargli i suoi nervi. E si inquietava che in un secolo a cui non era dato produrre grandi simboli si facesse un simile tentativo destinato a provocare una completa catastrofe. E le parole, super significativo, ascesa alla superumanità, libera specie umana, facevano fremere gli occhiali sul naso di Fischel ogni volta che le udiva. In casa sua nascevano termini come pensiero esistenzialista, incrementazione spirituale e attivismo oscillante. Scoprì che ogni 15 giorni si teneva in casa sua l'ora della purificazione. Chiese schiarimenti. Risultò che era una lettura diversi di Stephen George. Leo Fischel cercò in vano nella sua vecchia enciclopedia chi fosse costui. Quello che più irritava il vecchio liberale era che quegli sbarbatelli, quando parlavano dell'azione parallela, chiamassero belli imbusti tutti i funzionari ministeriali, presidenti di banche e scienziati che vi prendevano parte, che dichiarassero in tono blasé non esistere oggi di grandi ideali né persone capaci di comprenderli. Perfino umanità era una parola vuota e soltanto la nazione o come dicevano il complesso di popolo e costumi esisteva per loro. «Umanità è una parola che non mi dice niente, papà», rispondeva Gerda alle sue dimostranze. «È invuota di contenuto ormai, ma la mia nazione, questo sì che è palpabile!» «La tua nazione», incominciava allora Leo Fischel e voleva dire qualcosa dei grandi profeti e del proprio padre che era stato avvocato a Trieste. «Lo so», interrompeva Gerda, «ma la mia nazione è quella spirituale, alludo a quella!» «Ti chiuderò in camera tua finché riacquisti la ragione», diceva allora papà Leo, «e i tuoi amici li metterò alla porta. Sono individui senza disciplina che si occupano sempre della loro coscienza invece di lavorare». «Conosco il tuo modo di pensare, papà», ribatteva Gerda. «Voi altri vecchi credete di poterci umiliare perché ci mantenete. Siete dei capitalisti patriarcali!» Tagli dialoghi erano sovente provocati dalla sollecitudine paterna. «E di che cosa vivresti se io non fossi capitalista?» chiedeva il padrone di casa. «Non posso sapere tutto!» Gerda tagliava corto di solito a questi allargamenti del discorso. «Ma so che scienziati, educatori, guide spirituali, uomini politici e altri lavoratori stanno creando nuovi articoli di fede!» Quasi sempre il direttore Fischel si sforzava di chiedere ancora in tono ironico. «Questi uomini politici e guide spirituali siete voi stessi, vero?» Ma lo faceva soltanto per avere l'ultima parola. Era contento, in fin dei conti, che Gerda non si accorgesse come ogni irragionevolezza gli ispirasse semplicemente per abitudine il timore di dover cedere. Si giunse al punto che al termine di simili colloqui egli si metteva persino a lodare l'ordine dell'azione parallela in contrasto con le disordinate opposizioni in casa sua. Ma succedeva soltanto quando Clementin non era a portata di orecchio. Ciò che conferiva alla resistenza di Gerda contro le proteste paterne, una cheta ostinazione di martire, ed era sentito anche confusamente ad Aleo e Clementin, era il soffio di volutà innocente che alleggiava per casa. Si parlava fra i giovani di molte cose che i genitori tacevano amarezzati. Anche ciò che chiamavano sentimento nazionale, quella aspirazione dei loro io in perpetuo bisticcio a fondersi in unità sognata che nel loro gergo si chiamava comunità dei cittadini cristiani, aveva qualcosa dell'ero salato di fronte ai tormentosi rapporti amorosi dei più vecchi. Con aria saputa questi giovani disprezzavano la cupidigia, la ghindata menzogna dei goffi piaceri della vita, come dicevano loro, ma di superamento della sensualità e di ardore spiritualizzato parlavano tanto che nell'animo dell'attonito ascoltatore sorgeva involontariamente e per contrasto una memora simpatia per la sensualità non superata e per gli ardori non spiritualizzati. E perfino Leo Fischel doveva ammettere che la loro eloquenza senza perifresi faceva sentire nell'ascoltatore fin giù per le gambe le radici delle loro idee cose che egli però biasimava perché secondo lui davanti alle grandi idee bisogna sentirsi trasportati in alto. Clementin invece diceva non dovresti respingere tutto in blocco Leo come posso asserire che la proprietà distrugge lo spirito egli incominciava a discutere con la moglie sono incretinito io? Tu sì forse perché prendi sul serio le loro ciance. Tu non capisci Leo loro le intendono in senso cristiano aspirano a una vita migliore su questa terra. Questo non è cristiano è senza senso protestò Leo forse la vera lealtà non la vedono i realisti ma gli introspettivi ribatteva Clementin mi fai ridere esclamava Fischel ma non rideva piangeva piangeva dentro di sé per l'impotenza a padroneggiare le evoluzioni spirituali di casa sua. Più spesso di prima il direttore Fischel provava ora il bisogno di aria pura. Finito il lavoro non aveva nessuna voglia di correre a casa e quando usciva dall'ufficio che faceva ancora giorno gli piaceva girondolare in giro per i parchi pubblici benché si fosse d'inverno. Fin da quando era impiegato a Ventizio aveva una predilezione per quei giardini. Per misteriosi motivi l'amministrazione comunale alla fine dell'autunno aveva fatto ridipingere le sedie di ferro e ora giacevano piegate una sull'altra verdoline sulla neve bianca e suggerivano alla fantasia i colori della primavera. Leo Fischel qualche volta si sedeva su una di quelle sedie tutto solo e imbaccuccato su una piazzetta da gioco lungo un viottolo e guardava le bambinaie che coi piccini a loro affidati si davano al sole un aspetto di salute invernale giocavano al diabolo o si gettavano palle di neve e le bimbe piccine facevano grandi occhi da donna ah pensava Fischel sono proprio quegli occhi che nel viso di una bella donna danno le deliziose impressione di occhi di bimba gli faceva bene guardare intente ai loro giochi le bambine nei cui occhi l'amore navigava ancora sul laghetto delle fiabe dove un giorno verrà a prenderlo la cicogna e qualche volta anche le bambinaie negli anni di gioventù si era spesso goduto quello spettacolo quando stava ancora davanti alla vetrina della vita senza denaro per entrare e poteva soltanto chiedersi quali doni gli riservasse il destino erano stati doni abbastanza miseri e gli pensava e per un attimo gli pareva di ritrovarsi pieno dell'ansia gioconda di allora fra il bianco dei crocchi e il verde dei prati quando poi il suo senso della realtà tornava a riconoscere la neve bianca e la vernice verde egli chissà perché pensava ogni volta alle sue entrate il denaro dall'indipendenza ma per ora lo stipendio era tutto ingottito dalle necessità della famiglia e dagli investimenti che la ragione suggeriva bisognava dunque che gli rifletteva fare qualche altra cosa oltre il suo servizio per rendersi indipendente magari sfruttare la propria esperienza della borsa come facevano i direttori principali tali pensieri però venivano in mente a Leo solo quando osservava le bambine al gioco e li reprimeva non sentendosi affatto un indole adatta alla speculazione era procuratore ed il direttore non aveva che il titolo non gli si schiudeva nessuna probabilità di salire più in alto e subito si intimidiva deliberatamente dicendosi che un povero animale da lavoro come lui aveva già la schiena troppo rotta per levarsi su libero non sapeva che lo pensava soltanto per mettere un ostacolo insuperabile fra sé e i bei bambini e bambinaie che in quelle soste fragerde rappresentavano per lui le attrattive della vita perché anche in preda al malumore che lo teneva lontano da casa egli restava incorreggibilmente attaccato alla vita domestica e avrebbe dato qualsiasi cosa per poter scambiare quell'inferno di casa sua con un coro d'angeli rotanti intorno a un padre eterno direttore effettivo anche Ulrich amava i giardini e li attraversava quando poteva così gli accadde di incontrarsi di nuovo con Fischel e a questi tornò subito in mente tutto quello che aveva già sofferto in famiglia per via dell'azione parallela si ragnò che il giovane non tenesse in maggior conto gli inviti dei suoi vecchi amici e di ciò poteva onestamente illudersi giacché anche le amicizie più superficiali diventano vecchie col tempo quanto le più profonde il vecchio giovane amico assicurò che vedere Fischel era sempre per lui una gioia grandissima e se la prese con la ridicola attività che finora gliel'aveva impedito Fischel si lamentò dei tempi cattivi e degli affari difficili e il rilassamento della morale poi tutto era così affrettato e materiale e io che pensavo a lei con invidia replicò Aldrich la professione di uomo d'affari deve essere un vero sanatorio dell'anima o almeno è l'unica professione con un fondamento sano e pulito questo è vero approvò Fischel uomo d'affari serve il progresso umano e si accontenta di un guadagno lecito e così sta male come tutti gli altri soggiunse poi con cupa malinconia Ulrich aveva accettato di accompagnarlo a casa la giunti trovarono che l'aria era già carica di elettricità tutti gli amici erano presenti e si stava svolgendo un acceso conflitto verbale i giovani frequentavano ancora il liceo o il primo anno d'università pochi di loro avevano anche un impiego come sarà formato il loro sudalizio non sapevano più neanche loro così da uomo a uomo gli uni si erano conosciuti nelle associazioni nazionalistiche studentesche gli altri nei circoli cattolici o socialisti altri ancora in gruppi escursionistici non c'è pericolo di sbagliare affermando che l'unico elemento comune a loro tutti era Leo Fischel un movimento intellettuale per durare ha bisogno di un corpo e questo era casa Fischel con vino e un certo regolamento del traffico ad opera della signora Clementine alla casa apparteneva Gerda e a Gerda Hans Sepp e Hans Sepp lo studente dalla carnagione bruna ma dall'anima tanto più bella non era il capo perché i giovani non riconoscevano capi ma era la passione più forte fra di loro qualche volta si riunivano anche altrove e là ammettevano donne che non erano Gerda ma così come abbiamo descritto era costituito il nocciolo del movimento ciò nonostante l'origine dello spirito di quei giovani era strana come il manifestarsi di una malattia nuova o una lunga serie di colpi fortunati in un gioco d'azzardo quando il sole del vecchio idealismo europeo cominciò ad oscurarsi e declinò lo spirito della razza bianca molte fiaccole vennero passate di mano in mano fiaccole di idee sai Dio dove erano state rubate o inventate e formarono qua e là l'ondeggiante lago di fuoco di una piccola comunità intellettuale così negli ultimi anni prima che la grande guerra ne traesse le conseguenze si parlava anche molto fra i giovani di amore e di comunione e specialmente stavano schierati sotto il segno della comunione e dell'amore che tutto abbraccia i giovani antisemiti in casa del direttore Fischel la vera comunione è l'effetto di una legge interiore e la legge più profonda più semplice più perfetta la prima di tutte è quella dell'amore come si è già detto non l'amore nel suo basso significato sensuale perché il possesso fisico è una trovata di mammone e ha l'unico effetto di dividere e di togliere il senno e poi naturalmente non si può amare chiunque ma si può rispettare qualunque altro carattere purché autentico schietto tenda a innalzarsi con rigorosissimo senso di responsabilità così in nome dell'amore litigavano ogni proposito quel giorno avevano fatto fronte comune contro la signora Clementin la quale godeva di sentirsi nuovamente giovane e infinitamente conveniva che l'amore coniugale somigliava molto alla riscossione degli interessi di un capitale ma non voleva assolutamente permettere che si condannasse l'azione parallela affermando che gli ariani erano capaci di creare simboli solo quando erano esclusivamente fra loro la signora Clementin si dominava a fatica e Gerda aveva due cerchi rossi sulle guance per la rabbia che le faceva sua madre non decidendosi a lasciare la stanza quando Leo Fischel entrò in casa con Ulrich ella di nascosto fece un segno implorante ad Hans Zepp per chi la smettesse e Hans disse in tono conciliante del resto nessuno al giorno d'oggi può riuscire a creare qualcosa di grande e credeva così di aver risolto la discussione con una formula impersonale a cui tutti erano già abituati disgraziatamente però Ulrich intervenne nel discorso e domandò ad Hans con una certa malignità verso Fischel se non credeva in alcun modo nel progresso progresso rispose Hans Zepp dall'alto in basso basta pensare quali uomini sono vissuti cent'anni fa prima che si parlasse di progresso Beethoven Goethe Napoleone Hebbel mmm obiettò Ulrich Hebbel cent'anni fa era appena un poppante i signorini disprezzano la precisione delle date spiegò il direttore Fischel divertito Ulrich non volle insistere sapeva che Hans Zepp era geloso di lui e lo disprezzava ma gli strani amici di Gerda si ispiravano a una certa simpatia perciò si sedetta in mezzo a loro e continuò nei vari rami delle conoscenze umane facciamo innegabilmente tanti progressi che abbiamo l'impressione di non poterli seguire non potrebbe darsi che da questo derivasse la sensazione che non vi sia progresso alcuno in fin dei conti il progresso è ciò che risulta dagli sforzi comuni di tutti e si può dire a priori che il vero progresso sarà sempre appunto quello che nessuno voleva il ciuffo bruno di Hans Zepp si volse verso di lui con un corno vibrante lo dice lei stesso quello che nessuno voleva vuoti schiamazzi inutile trambusto cento vie e nessuna strada pensieri insomma ma niente anima e niente carattere la frase balza dalla pagina la parola balza dalla frase il tutto non è più un tutto lo dice anche Nietzsche a parte il fatto che anche l'egoismo di Nietzsche è un non valore della vita mi citi un solo valore solido l'ultimo a cui lei per esempio conforma la sua esistenza così su due piedi protestò il direttore Fischel ma Ulrich domandò ad Hans lei non è proprio mai capace di vivere senza un valore ultimo no disse Hans ma le concedo che per questo devo vivere infelice e vada al diavolo allora rise Ulrich tutto quello che noi sappiamo ha una condizione non essere troppo rigorosi e non stare ad aspettare la rivelazione suprema il medioevo non l'ha osservata ed è rimasto ignorante qui sta il punto rispose Hans Sepp io invece sostengo che gli ignoranti siamo noi ma deve ammettere che la nostra ignoranza è estremamente felice è ricca di varietà dal fondo della stanza una voce tranquilla brontolò varietà scienza progresso relativo questi sono concetti del pensiero meccanico di un secolo corroso dal capitalismo non c'è altro da dire anche Leo Fischel brontolò qualcosa per quel che se ne capì giudicava che Ulrich fosse troppo alla mano con quei ragazzi senza rispetto e si trincerò dietro un giornale che sarà cavato di tasca ma Ulrich si divertiva un appartamento moderno di sei stanze con bagno per la servitù aspirapolvere e tutto quel che ci vuole paragonato alle case antiche con camere altissime muri spessi e soffitti a volta è un progresso oppure no e gli chiese no gridò Hans Sepp l'aeroplano è un progresso in confronto alla dirigenza sì gridò il direttore Fischel e la macchina rispetto al lavoro a mano lavoro a mano gridò Hans macchina gridò Leo secondo me disse Ulrich ogni progresso è anche un regresso beh progresso sempre unicamente in un certo senso e poiché la nostra vita nell'insieme non ha senso così nell'insieme non ha neanche progresso Leo Fischel lasciò cadere il giornale le sembra meglio attraversare l'Atlantico in sei giorni o metterci sei settimane io direi che è certamente un progresso poter fare l'uno e l'altro i nostri giovani cristiani però negano anche questo il gruppo rimase immobile come un arco teso Ulrich aveva paralizzato la loquacità ma non l'aggressività continuò tranquillamente ma ci può anche dire il contrario se la nostra vita ha fatto qualche progresso nelle singole cose ha anche un senso nelle singole cose se far sacrifici umani agli dèi per esempio o bruciare le streghe o incipriare i capelli ha mai avuto un senso tutte quelle azioni della vita conservano un significato anche se umanità e abitudini più geniche sono progressi lo sbaglio sta in questo che il progresso vuol sempre far piazza pulita del vecchio significato lei vuol forse dire domanda Fischel che dovremmo ritornare ai sacrifici umani dopo aver vinto per nostra fortuna quelle tenebre mostruose non è tanto facile stabilire cosa è tenebra rispose Hans Zepp al posto di Ulrich è tenebra mangiare un leprotto innocente ma quando un cannibale secondo un certo rituale religioso divora un nemico della sua tribù semplicemente non sappiamo che cosa si svolga dentro di lui i tempi passati devono pur avere avuto qualcosa di buono convenne Ulrich altrimenti non ci sarebbero state tante care persone che ci si trovavano benissimo forse potremmo ritrarne vantaggio anche noi senza fare grandi sacrifici e forse oggi sacrifichiamo ancora tante creature umane proprio perché non ci siamo mai posto chiaramente il problema nel modo giusto di superare le precedenti pensate dell'umanità sono correlazioni poco trasparenti assai difficili ad esprimersi ma per il suo modo di ragionare la meta desiderata rimane sempre una somma o un bilancio prolupe Hans Zepp questa volta contro Ulrich lei come direttore Fischel crede nel progresso borghese ma lo esprime nel modo più perverso e complicato possibile perché nessuno se ne accorga Hans aveva espresso l'opinione dei suoi amici Ulrich cercò il vicio di Gerda voleva ripigliare tranquillamente da capo i propri pensieri senza badare che Fischel e i giovanotti erano pronti a buttarsi su di lui quanto gli uni sugli altri ma anche lei tende a una meta Hans chiese di nuovo non io qualcosa dentro di me o per mio mezzo rispose Zepp brevemente e questo qualcosa che è in lei sarà capace di farcela Leo Fischel si era lasciato trascinare a quella domanda ironica e così come tutti capirono tranne lui stesso si mise dalla parte di Ulrich non lo so rispose Hans torvo dovrebbe fare il suo esame questo sì che sarebbe un progresso e Fischel non aveva potuto trattenere quest'altro commento tanto era irritato ma non meno dal suo amico che da quei saputelli in quel momento la stanza saltò in aria la signora Clementin gettò uno sguardo deprecativo al marito Gerda tentò di arrivare prima di Hans e Hans cercava parole che poi si scaricarono di nuovo su Ulrich stia certo gli gridò in fondo anche lei non ha nel cervello un solo pensiero che anche il direttore Fischel non sia capace di pensare poi corse fuori e anche i suoi amici con inchini irosi gli si precipitarono dietro il direttore Fischel trafitto dagli sguardi di Clementin fece vista di ricordare a un tratto i suoi doveri di padrone di casa e se ne andò imbronciato in anticamera per dire ancora ai giovani una parola gentile in salotto rimasero soltanto Gerda Ulrich e la signora Clementin che tirò due o tre sospiri di sollievo perché adesso la tempesta era dissipata poi se alzò e Ulrich con stupore si trovò solo con Gerda di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra Grazie a tutti